Questo è Digitalia Mi sapete raccontare che cos'è tutto sto casino sull'update di Whatsapp, le regole? Quelli di Signal sono diventati pazzi perché di colpo ci sono arrivati 18 miliardi di utenti nuovi sono andati a gambe all'aria, oddio i server! Sono cresciati clamorosamente! Ma dove troviamo i soldi? Io sono uno dei pochi che usava Signal da tempi non sospetti Tu e Snowden Quando ho cominciato a studiare la sicurezza sul rete ed ero così contento Un'app così bella di nicchia Hai letto? Hai letto la risposta di Snowden al tizio che gli diceva Sì sì ma tu come fai ad essere così sicuro e tranquillo del fatto che Signal sia sicuro? Lui gli ha risposto perché sono ancora vivo Compa! Effettivamente Anche il messaggio della Signal Community Ragazzi dai non vi incazzate siamo open source stiamo lavorando Peace and love Sono tornati in questi giorni online e funzionano meglio di prima Ma che cosa è successo? Perché Whatsapp ha spaventato tutti? Perché? Perché è un impossibile su queste cose Allora cosa è successo? Che in realtà un po' tutti Adesso non so immagino anche voi Nelle scorse settimane ci siamo trovati con questo Almeno su Android era credo un alert a tutto schermo Questo avviso lampeggiante Che era anche abbastanza fastidioso perché tornava varie volte se rispondevi non adesso Sul fatto che Whatsapp avrebbe cambiato le proprie policy E a un certo punto appunto parlava di condivisione dei dati con le altre aziende del gruppo Facebook Oddio! Madre e Instagram No shit Sherlock Incredibile! No allora è stato un fenomeno catalizzatore Perché ovunque su internet E io l'ho visto poi anche le notifiche che iniziavano ad arrivare da Signal Tizio Caio Da Telegram Gente che si è iscritta Per nulla Perché in realtà questo era un messaggio Che valeva principalmente per il resto del mondo Il mondo non GDPR Per le quali sarebbe dovuto cambiare Anzi Poi hanno cambiato la data Adesso è a maggio Davvero dovranno cambiare le regole e le policy E ci sarà una maggiore condivisione dei dati all'interno del gruppo Facebook Che in realtà è una cosa che GDPR o no esiste già Whatsapp già credo dal 2016 o dal 2017 Quindi in realtà abbastanza poco dopo la posizione Era una cosa che Zuckerberg aveva detto che non avrebbe mai fatto E che ha fatto circa un anno dopo Ma ne abbiamo parlato subito Ma non è che l'ha fatto dopo L'ha fatto immediatamente Però Quindi Alla fine della fiera Esatto Positivo come fenomeno catalizzatore Perché veramente Io non ho mai visto così tanta consapevolezza E anche voglia di rivalza nei confronti di Facebook Vuol dire che Vuol dire che i tempi sono maturi Chissà perché sono maturati proprio adesso di colpo C'è qualche collegamento con Trump Chiuso Trump La censura La non censura Eccetera Non ho idea Ci può essere qualche collegamento? Perché i tempi sono sospetti I tempi sono sospetti I tempi sono sospetti Io credo proprio di sì che c'è stato un collegamento Il collegamento è di una presa di coscienza generale Della potenza di questi Quello che noi stiamo tentando da tanti anni Di far crescere questa consapevolezza Della interconnessione Tra le varie tecnologie che utilizziamo Sui dati che cediamo E tutto il resto E come tutti gli avvenimenti recenti Degli ultimi anni E in particolare questo epigono Che è stata la vicenda americana Hanno fatto fare secondo me Un grosso salto di maturità complessiva Finalmente presa di coscienza seria Che tutte le cose che si dicono I dati che vengono condivisi Cambridge Analytica Mi vendono di qua Mi vendono di là C'ha un impatto sulla vita reale davvero E che non è trascurabile Però il ban di Trump Che è l'argomento grosso Diciamo che è loosely coupled È accoppiato in maniera molto lasca Con tutto questo Cioè passo sul social dei russi Perché guarda big tech americano Come è cattivo che ha bannato Trump Rischio che bannino anche me Passo su Telegram Non so E che si comincia Guarda l'articolo A capire che è importante Prima citato Di Elena Tebbano Sul Corriere della Sera Faceva veramente Questi bei passaggi Appunto Le cose sono concatenate Tra di loro Perché si comincia a capire Che davvero L'impatto di queste tecnologie E lo strapotere O comunque Il monopolio Che si è creato Attorno a queste aziende Ha degli addentellati Che vanno dappertutto Nella vita E la cosa che mi colpisce Di più di tutto E con questo Ho trovato molto positivo Questo fenomeno Diciamo di appunto Di fuga E di ricerca Di alternative Proprio per dire La mia scelta Specifica Singola Ha un impatto Ha un significato Il povero Cristo Che ha compilato Quel form Quel banner Che compare su Whatsapp L'hanno bruciato L'hanno messo Nella stufa L'hanno demolecolarizzato Nella stufa di Zachert Io l'ho interpretato Come Vabbè E' una cosa Da tutti i giorni Alla fine Perché sono Sei Sono quei classici I classici cambi di policy Che ti arrivano ogni tanto Sulle applicazioni E tu che fai Non è che poi dici Vabbè Non accetto Ho tutti i miei amici Su Whatsapp Tutti i gruppi Magari anche lo uso Per lavoro Quindi diventa Impossibile liberarsene E quindi Dal punto di vista Di Whatsapp Slash Facebook Ha detto Vabbè Facciamo uscire anche questo Poi chi se ne frega Però E' E' stato ingigantito Può essere anche Che è la prima volta Che è la prima volta Che la gente Si è trovata davanti A un messaggio chiaro Cioè prima Tutto questo era nascosto In fondo All'ultimo Eula No pagina 2754 In piccolino Eccetera E finché arrivava il messaggio Alla catena di Sant'Antonio Con scritto Whatsapp Condivide tutti i dati Con Facebook La maggior parte della gente Se ne strafregava Nel momento in cui E' comparso un banner A tutto schermo Di Whatsapp stesso Che diceva Oh uè Ragazzi Guardate che condividiamo I vostri dati con Facebook Forse la gente Ha capito un po' di più Eh non lo so Eh sì sì Può essere anche quello Perché effettivamente Prima non mi ricordo mai Di banner Così espliciti Che dicessero Guarda che prendiamo Questo questo Tu ho dato Lo condividiamo di qua Lo vendiamo di là E' sempre in fondo A un contratto E' sempre in fondo A un euro Eccetera Per cui Questo farebbe Farebbe capire Che anche Obbligare A mettere Le parti critiche Di questi Eula Per sommi capi Dentro Delle comunicazioni In prima fila Potrebbe essere importante Oggi che l'Europa Si mette a studiare Come limitare Questi abusi Da parte Delle piattaforme Dominanti Da parte di chi ha Tutti questi dati Ebbè obbligare Rendere Abbiamo capito Che oggi Il mondo è diverso No Abbiamo capito Che è diverso E per il mondo Per la legge Come oggi Una cosa che scrivi In prima pagina Su un contratto E una cosa che scrivi Come ultima lettera In fondo Con un carattere Dieci volte più piccolo Hanno lo stesso valore Dal punto di vista legale Che tu lo metti All'inizio Alla fine Eccetera Ma per l'efficacia Informativa Non hanno lo stesso valore Ovviamente E l'utente Dovrebbe avere Un diritto A comprendere Quali suoi diritti Vengono In particolare Limitati In questo caso Il diritto alla privacy Che in qualche modo Nel momento in cui Io acquisisco Dei tuoi dati E li utilizzo Per qualcosa Io limito E rodo Un tuo diritto Ecco Nel momento in cui Questi diritti Così fondamentali E così sfruttati E così Come dire Così ricchi Così preziosi Dal punto di vista Economico Perché sono la merce Di scambio Di tutta internet E beh È giusto Che si chieda Alle aziende Di metterlo In grande evidenza Come Microsoft Diceva Sì ma l'utente Può disinstallare Internet Explorer E installare Firefox O quello che vuole Però a un certo punto Gli hanno detto E no ciccio bello Tu quando Windows Fa il boot Devi mettere Una pagina così Con tre Opzioni disponibili Di cui una delle tre Sarà Internet Explorer Ma non deve mai essere Non deve essere Sempre la prima La posizione Deve essere randomizzata Il motivo è lo stesso Perché certo Che l'utente Ha la possibilità Ma l'utente Se non è ultra smaliziato Se non glielo metti Davanti agli occhi Non ce l'ha E ha dei meccanismi automatici E questa è la stessa cosa E allora io penso Che dovrebbe essere Reso obbligatorio Questo tipo di pannelli Quando tu lo apri Sì guarda qui c'è l'eula Tu lo accetti E lungo un chilometro Sappiamo che non leggerai mai Ma guarda Che sappiamo Dove abita tua nonna E se tu ci scrivi Ok qui Lo sapranno anche Tutti i pubblicitari Dell'universo Quello sarebbe Una cosa giusta E non credo Difficilmente implementabile Dal punto di vista Legislativo E poi dal punto di vista Del software Una banalità Abbiamo messo banner Su tutti i siti Per la cookie Ben più inutile Ben più inutile No dovrebbe essere Una forma Una forma interessante Potrebbe essere Avete presente Quella dei bollini Della Creative Common L'etichetta di Apple Del software Che stanno implementando Adesso è molto simile No come l'etichetta Del cibo Questo te lo vendiamo L'abbiamo in scatolato A Novara Ma arriva Dall'Arabia Saudita Punto Finito Sono dati Che non li puoi mettere In fondo a un'eula Linkato eccetera Li metti sull'etichetta Che la gente vede Sotto il prezzo Far tornare un pochino Questa è veramente Un'azione concreta Abbastanza semplice Da implementare Ed efficace Un'etichetta obbligatoria Va bene Intanto Google